Pensavamo fosse caduto nel dimenticatoio, quindi stamattina con questa notizia siamo fra virgolette contenti per quello che si può essere contenti, però perlomeno abbiamo più fiducia nelle istituzioni perché vuol dire che il lavoro è stato portato avanti. C'è un indagato per la morte di Gastone Pagni, la 55enne informatore farmaceutico che venne ritrovato all'interno della propria abitazione in via della Saracino, ci troviamo nel cuore del centro storico Aretino, gravemente ferito il 9 luglio 2015. Gastone fu trovato a terra dai vigili del fuoco che forzarono l'ingresso in gravissime condizioni e con un'importante emorragia cerebrale. Fu trasferito d'urgenza all'ospedale San Donato, morì dopo 40 giorni di agonia il 19 agosto e adesso a tre anni di distanza arriva la svolta in questo giallo. All'interno della casa è stata infatti individuata una traccia di DNA non appartenente alla vittima. Il materiale genetico prelevato dalla scientifica sarà comparato con quello dell'indagato. Sicuramente è stata una situazione non chiara perché Gastone era negli ultimi periodi una persona un po' fragile, una persona che non stava bene quindi anche poteva involontariamente ritrovarsi in delle situazioni magari con la scusa anche di essere accompagnato a casa perché poi faticava un po' anche a camminare, non stava bene appunto. Sicuramente per noi qualcosa non tornava, sicuramente qualcuno si è approfittato di lui e dopo è sfociata in tragedia questa cosa. Gli amici di Gastone non si sono mai arresi, da anni chiedono che venga fatta chiarezza sulla vicenda. Speriamo appunto che sia fatta giustizia anche se è una diciamo magra consolazione però obiettivamente deve essere assicurata la giustizia il colpevole sempre che ci sia un colpevole.